e così via. Quindi il moto che vogliamo suscitare all'interno del mondo penitenziario è quello appunto di rimettersi tutti attorno a un tavolo e discutere, ognuno facendosi carico di un pezzo di questa trasformazione necessaria. Questo obiettivo però non basta, perché chi come me, come la Presidente Ferranti, come l'onorevole D'Ambrosio ha seguito la discussione parlamentare, si è reso conto che spesso si è partiti con ambizioni anche più ardite di quelle che poi si sono realizzate nei provvedimenti in concreto, anche di ripensamento complessivo proprio delle modalità di esecuzione della pena, ma ci si è poi spesso arrestati o comunque ci si è contenuti rispetto a queste ambizioni perché spesso si scatenano delle campagne di stampa che facendo leva anche su una paura che è presente all'interno della società, enfatizzano il tema del dato del rischio per la sicurezza e fanno sì che il Parlamento spesso arretti.